Ciao, benvenute e benvenuta alla lezione dedicata a braccia e addome. Per la lezione di oggi ci servono dei bei pesetti, un chilo e mezzo, la sedia, l'acqua ovviamente. Iniziamo oggi sul mat. Ci sediamo a gambe incrociate, iniziamo un brevissimo riscaldamento per le articolazioni, sciogliamo il collo con delle rotazioni del capo a destra e a sinistra, mantenendo la colonna ben allungata, le spalle abbassate. Di ripetizione in ripetizione dovrai sentire il collo sciogliersi un po', e quindi faremo delle circonduzioni. Quando alzi lo sguardo in alto mi raccomando a non buttare indietro la testa, mantieni sempre la lunghezza diciamo del collo, invertiamo il senso del giro due volte dall'altra parte, testiamo bene la mobilità del collo, quindi sollevo le spalle e le lascio cadere. Cambio l'accavallamento delle gambe, metto le mani sulle spalle, disegno degli ampi cerchi, uno, due, tre, l'altro giro, uno, due, tre. Punto le braccia in avanti, disegno un'ampia circonduzione fino a toccare terra dietro e quindi ritorno, grande dietro e ritorno. Lascio le mani appoggiate alle ginocchia, addirittura aggrappate in avanti, sciaglio un pochino la schiena andando all'indietro e aprendo in avanti, rullando un po' sul bocino, aprendo la schiena un po' all'indietro e in avanti, all'indietro e in avanti. Cambio l'accavallamento delle gambe e vado un po' anche di lato, piano all'inizio, allunghiamo in parte le braccia e prepariamo bene la schiena, molto bene. Voilà, ultimo di qua, ultimo di là, dopodiché riscalderemo anche un po' il twist, distendimi in avanti le gambe, io mi giro così vedrai meglio e vado da un lato e dall'altra, da un lato e dall'altra, ancora uno per lato, così abbiamo già anche rifiandato bene i gomiti e voilà. Un attimino di dita intrecciate per sciogliere i polsi in un senso e nell'altro, quindi iniziamo dalla quadrupedia. Allora, mettiamo bene la schiena come prima cosa, poi la lasciamo lì. Allora, la schiena lavora costantemente e il giro vita anche, non in maniera molto intensa ma in termini di stabilizzazione, e quindi è la sua migliore funzione. Diciamo, la maggior parte, come ti ho già detto in altre occasioni, delle fibre addominali sono proprio posturali, deputate a controllare bene la posture, a mantenere bene l'equilibrio. Quindi, attenzione a non mollare la schiena in un senso o nell'altro. La cartina della bicicletta ormai dovrebbe essere nota questa similitudine, perché così vado ad allungare bene, restringere il giro vita e la mia boxe, il concetto del Pilates è di mantenere la sospesa regolare. Ora mi punto con i polpastrelli a terra ed eseguo tre respiri con le spalle giù bene, quindi respingi il suolo, andiamo a rinforzare bene sia l'addome sia i muscoli degli avambracci, quindi delle braccia, ok? In questa posizione. Senti come si attiva subito fino anche al bicipite, quindi tre respiri profondi qua. Dita forti, rigide. Io sento già le braccia interamente, la lunghezza delle braccia belle calde. Adesso faremo l'analogo con i pugni chiusi. Guarda bene la linea dei polsi, non si deve spezzare in alcun modo, ma essere ben allineata all'avambraccio, ok? Tre respiri così. Forza nel giro vita, forza nelle scapole, polsi rigidi. Fantastico. Apro adesso le mani, mi piego sui gomiti facendo scendere la schiena diritta come una bacchetta. Veloce, dieci. Uno, due, tre, gomiti solo indietro, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Intraruoto, attenzione. Intraruoto le mani, le mani si guardano, ok? Mi punto sugli avampiedi, in modo tale che le ginocchia siano separate e gli avampiedi uniti, le mani convergono sotto alle spalle, stacco da terra di pochi centimetri le ginocchia e mi piego sulle braccia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e quindi rest position. Mi allungo, mi tiro, glutei sui talloni, tirati bene le braccia, ossigenati. E quindi, di nuovo, partiamo dai polpastrelli puntati, schiena diritta, tre respiri profondi qui. Usami bene la powerhouse, anche la powerhouse delle scapole, la schiena che allunga. Fantastico. Pugno, pugno, rinforzo bene anche i polsi, respingi il suolo, scapole nella schiena, espando la gabbia, fuori l'aria, attivazione della powerhouse. Porti i polsi, fantastico. Mano a mano aperta, piegati sui gomiti, gomiti che si chiudono verso le ginocchia, schiena diritta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Convergo i piedi, convergo le mani sotto esattamente alle spalle, stacca le ginocchia, piegati sui gomiti. Uno, piccoli e veloci. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Mi riposo, mi allungo, fronte a terra. Molto bene. Ora ti sollevi di nuovo, unisci i talloni dietro, un po' come prima, avanza bene con le mani, stacca da terra i talloni, stringili forte, avanza con il bacino, guarda il bacino, non deve arrivare a questa linea inarcata con la schiena, ma stringi i glutei, scava in sotto il coccige, stringi forti i talloni, arrivo all'allineamento e lo mantengo per uno, due, tre, quattro, respingo bene il suolo con le braccia, cinque, stringi i talloni, glutei, coccige in sotto, addome. Ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, sciolgo, cerca di lasciare lì le mani, trascinali indietro i glutei, così ti stendi per bene, allungati, molto bene. Seconda ripetizione, mano a mano, tallone a tallone, avanzo, schiena che è un'unica tavola, glutei contratti, coccige in sotto, addome scavato, stringo, uno, respingo il suolo dalle braccia, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, allungati bene all'indietro, tirati, voilà. Fantastico! Ci prepariamo sul fianco, io sono sul fianco destro, gamba su gamba, flex, ricordati che qui sei già pronto per fare esercizio ma non con questa schiena, tac, su, un'unica linea obliqua, forte anche la spalla che non si insacca ma respinge bene il suolo. Ci solleviamo, uno, due, testiamo un po' la spalla, tre, quattro, ok, aspetta che creo lo spazio per Rainbow. Preparo l'altro braccio, mi sollevo, adesso di più, di più, di più, di più, uno, su, bene, grande l'arcobaleno, due, tengo l'addome forte e scavato, tre, quattro, cinque, preparo la panca laterale e quindi braccio su, gamba distesa, uno, due, tre, quattro, cinque, stop. Dall'altra parte, ci mettiamo sul fianco sinistro, testiamo prima la posizione base, voilà, solleva il costato, respingo bene il suolo, sollevati, abbassati cinque volte, aspetta che valuto gli spazi, uno, un po' indietro le ginocchia, quasi, non eccessivamente in avanti, non perfettamente in linea, di poco avanti, sollevo, uno, testo la spalla, due, tre, quattro, ok, siamo pronti per l'arcobaleno, preparo il braccio, adesso mi sollevo tanto, apro il sul costato, uno, due, tre, quattro, cinque, resto su, braccio, gamba, giù il braccio sulla gamba, uno, due, tre, quattro e cinque, fantastico, e giù. Molto bene, mi metto con le gambe distese in avanti, sono in posizione seduta, mani dietro alla linea del corpo, giro vita forte, mi sollevo nella panca dorsale, glutei, tengo l'addome scavato bene, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù, intreccia le dita delle mani, allungati, su bene, e quindi giù, verso la punta dei piedi, voilà. Allora, vado a prendere i pesi e mi sdraio a terra, mettiti giù, hai anche tu un buon peso, almeno un chilo e mezzo, se, vabbè, ma valuta ovviamente il tuo livello di allenamento, però cerca di avere un buon peso, ok? Siamo avvantaggiati dalla posizione sdraiata, quindi massimo, adesso dobbiamo torturare proprio i muscoletti delle braccia, spalle abbassate, schiena giù, veloce, fletto, estendo, uno, due, tre, solida la powerhouse, non è solo braccia questo esercizio, ti faccio capire, non è che devi fare senza controllo della schiena, sentire che va su e giù, solida la box a terra, così costantemente ti lavora bene l'addome, mento abbassato, vado, uno, due, tre, scapole giù, quattro, veloci, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stringi bene i pesetti che hai in mano, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, preparo le braccia in alto, scapole nella schiena, porta le braccia e i pesi all'indietro senza alterare la forma della schiena e ritorno, uno, due, schiena giù bene, costole nell'addome, tre, quattro, spalle giù dalle orecchie, collo lungo, cinque, sei, ferma le scapole bene, quando le braccia salgono le scapole scendono verso il bacino, ancora uno, due, tre, quattro, lunghissimo il collo, cinque, addome scavato, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora giù le braccia e ancora veloce, trenta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, stringi bene i pesetti, gli ultimi, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, preparo le braccia tonde sopra l'area del petto, schiena aderente, apro, chiudo, apro, chiudo, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, bene la schiena allungata, metto abbassato, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, forza ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, braccia giù per i bicipiti veloci, uno, due, schiena lunga, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, mento in giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, gomiti vicini al corpo, forza gli ultimi, dieci, nove, otto, sette, tre, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, braccia in alto, immagina di reggere un blocco dello yoga, un libro fra i gomiti, un oggetto rigido, fletto i gomiti senza divergerli, estendo, uno, gomiti assolutamente fermi lì sopra le spalle, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, veloce su, un po' più lenta la discesa e ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, forza gli ultimi, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, giù i pesi, ginocchi al petto, ti sollevi, ripetiamo la panca dorsale, gambe leggermente separate, piedi a martello, braccia dietro la linea del corpo, schiena dritta e forte, petto aperto, glutei contratti, sollevati le mani, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù, intreccia le dita, allungati in alto e allungati verso i piedi, rilasso un attimino e quindi con le mani cammino a ritroso, faccio salire piano la schiena e mi metto sul fianco sinistro, vi ricordi la sequenzina di prima, mano al fianco, forte nella spalla, gomi, ginocchia un po' qui indietro, mi sollevo uno, due, tre, quattro, cinque, preparo il braccio con il palmo per rainbow, sollevati bene, spingi in alto, in alto, in alto, in alto, uno, in alto bene, due, su, 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 tre, quattro, cinque, rimani con il braccio fuori la gamba e quindi sollevati uno, due, tre, quattro, cinque, dall'altra, sono sulla gomito destro, mi metto già un po' lontano dalla libreria, testo la mia spalla, sollevati uno, due, tre, quattro, cinque, tieni bene scavato l'addome, prepara il braccio fuori, spingi in alto bene il costato, rispingi bene il suolo con il gomito, uno, addome scavato, glutei contratti, due, tre, quattro, cinque, resta, gamba braccio, uno, due, tre, quattro, cinque. Ci mettiamo in quadrupedia, glutei un po' più indietro rispetto alle ginocchia, puntati bene sui polpastrelli delle dita e piegati uno, due, forte nella schiena, tre, quattro, cinque, tre, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, schiena che è un'unica tavola, due, scapone nella schiena, tre, quattro, cinque, sei, forza, sette, otto, nove, dieci, mancano gli ultimi, dieci, nove, addome forte, sette, sei, cinque, ci sono i buchi, quattro, tre, due, uno, ci sono i buchi pastrelli sul mat, mi allungo bene, ritiro le braccia indietro, quel che resta delle braccia spingo, ti avevo chiesto di prendere la sedia, andiamo a prendere la sedia, eccomi qua, adesso alzo la camera, seggiola, voilà, metti la sedia contro la parete, diamo il colpo di grazia, sia all'addome sia alle braccia, ti ricordi della settimana scorsa, aggancia le mani se hai uno spessore del sedile sullo spessore del sedile, altrimenti ovviamente piatte sopra, addome scavato, schiena diritta, allunga un piede, allunga una gamba e poi l'altra, stretti i glutei, strette le cosce, ok? E quindi piegiamoci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora cinque, quattro, tre, due e uno, mi siedo, qualche ricordo della settimana scorsa, tranquilla, una serie secca, fine, sta finendo anche il tempo, sciogli prima un pochino i polsi che da una parte li abbiamo rinforzati ma anche un po' stressati, aggancia lo spessore della sedia, avanza con i piedi, stacca il bacino ma rimani proprio vicino vicino alla sedia, il peso è prevalentemente diciamo il novanta per cento sulle spalle e braccia, uno, due, tre, scendi verticalmente con il busto, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ultimi, cinque, quattro, tre, due, uno, siediti, porto la sedia un po' più avanti, gambe divaricate, sono sedute in pizzo sul sedile, le gambe sono leggermente divaricate, vado con la mano sinistra, con il dorso o anche con il palmo, all'esterno della gamba opposta, la destra, anche con il dorso, prendo questa resistenza, mano ginocchio, mi allungo in alto con la schiena, le anche restano pari, inspira, quando butto fuori l'aria premi forte fra il dorso della mano e ginocchio, scava forte l'addome, attivati bene nella powerhouse dal basso verso l'alto, scava, 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 allunga, 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 e ancora fuori, 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 allungati, allungati, apri il twist, aumenta il twist, fuori, 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 powerhouse, approfondimento, pavimento pelvico attivo e piano lascio, lascio prima la mano e poi il twist della colonna. Dall'altra parte, quindi palmo in fuori all'esterno, dorso sul ginocchio, vado con il twist, pari, pari le anche, ben in assi e le spalle sopra il bacino, un respirone profondo, fuori l'aria, pavimento pelvico, approfondimento, scava, allunga, scava, allunga la schiena, aumenta il twist, fuori, 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 aumenta, 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 aumenta e voilà. Molto bene, ultima cosa che ti chiedo, sbilanciati un pochino all'indietro sulla schiena, con la schiena diritta, raccogli un ginocchio, raccogli l'altro e mantieni l'equilibrio, avvicina più che puoi i femori al petto, tieni l'addome scavato, il ventre scavato e allungati dalla nuca, cinque respiri profondi qua, fuori, fuori, scava, scava dal pavimento pelvico in su, fuori, 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 allungati, 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 fuori, 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 resisti bene, giù piano, giù piano, molto bene, intreccio le dita delle mani, mi allungo bene prima in alto e mentre mi allungo in alto mi allungo un lato e poi l'altro, un lato e poi l'altro, un lato, un lato e poi l'altro e giù, sciargo bene, inspira, quando butti fuori l'aria scendi con il busto, vai giù bene, aggancia le mani alle caviglie, tirati un po' verso il basso, lascia che la testa sia proprio a ciondoloni giù, rilasso bene la schiena, l'aria dorsale, metto le mani sopra alle ginocchia e mi sollevo con la forza delle braccia, un braccio in alto, l'altra mano sull'interno del ginocchio che fa un po' leva per favorire l'apertura del lato e della schiena da una parte e quindi dall'altra, molto bene, un braccio in avanti, lo avvicino per tirare bene la spalla, lo avvicino al petto e cambio, chiudo il braccio, nel mio caso il sinistro davanti al petto, attenzione a non rimanere inarcati con la schiena, voilà, braccio destro in alto, flesso dietro la testa, prendo il gomito, curo la posizione e la postura della schiena, cerca di avanzare con il gomito dietro la testa, cambio, e voilà, molto bene, vediamo un po', scelgo un pochino, ragazzi, per oggi la nostra lezione è terminata, anzi, sta per terminare, dove ho nascosto il bicchiere, eccolo qua, un bicchiere d'acqua insieme e poi abbiamo realmente terminato. in attesa ovviamente di vedersi domani, domani è previsto lo stretching se stai seguendo l'ordine con cui ho consigliato il daily program. Molto bene, ti ringrazio ancora e quindi a domani.